Croce via Mediterraneo e questo è il tema di One Health Award 2023, l'evento internazionale organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo del Molise Caporale, che per il secondo anno ha portato a terra moscienziati, decisori politici, membri di organismi internazionali, giornalisti, personalità del mondo della cultura e dell'imprenditoria sostenibile, per confrontarsi sulla questione, una sola salute, un solo pianeta, filosofia che unisce medicina umana, medicina veterinaria ed ecologia, diventata la parola d'ordine del nostro tempo, segnato dalla pandemia e dalle continue minacce all'ecosistema. Il Mediterraneo è un crocevia di persone, di culture, di religioni e di economie. Il Mediterraneo è anche la nostra casa, dove l'Istituto lavora ormai da decenni a progetti di collaborazione in tutto il Nord Africa e il Medio Oriente. L'ultimo caso è stato il ciclone Daniel, che ha colpito la Libia, dove ci hanno chiamato per valutare la possibilità dello sviluppo di nuove malattie infettive in luoghi che adesso sono umidi e prima erano desertici. Per far risalire questo approccio, il One Health, cioè l'interdisciplinarità, l'inclusione invece della competizione a livello politico e la prevenzione in generale, a livello dell'audience generale, quindi anche della politica e quindi delle strategie politiche di un Paese e di più Paesi, come quando ci rivolgiamo all'Unione Europea, ha bisogno di voci autorevoli. Noi abbiamo voluto parlare di questo approccio utilizzando lo spettacolo, utilizzando dei divulgatori, utilizzando di licenziati di primissimo piano, come per esempio Stefano Bertuzzi della ISM. Gli interventi del Ministro della Salute Schillaci e del Cardinale Pizzaballa hanno impreziosito il primo giorno dell'evento sulla salute unica. Tra le novità di quest'anno anche il lancio ufficiale di One Health Journal, che sarà distribuito nel corso dell'evento in programma fino a domani, domenica 15 ottobre. Abbiamo lanciato una rivista scientifica, che è rigorosamente scientifica, ma con un linguaggio capibile a tutti, con il quale possiamo raggiungere tutti, che praticamente ricalca ed accompagna il One Health Award con lo stesso schema, scienza ma per tutti.